buonasera guagliù e forza napoli sempre allora rudy garcia è ufficiale e nuovo allenatore del napoli dal primo luglio di garcia ex centrocampista però prima di parlare di rudy garcia l'invito nelle descrizioni raga troverete il canale di telegram di che calcio quindi andatelo a seguire nelle descrizioni c'è il link andate a seguire e ogni mese ci stanno estrazioni di magliette gratis vi raccomando è tutto gratis iscrivetevi a telegram iscrivete poi seguite tutte le loro informazioni che vi danno e poi automaticamente loro vi danno un numeretto sto numeretto se siete fortunati avete vinto pure la magia e poi vanno a casa gratis non è che avete spendo le soldi per per la spedizione quindi non vi costa assolutamente niente iscrivetevi al canale di telegram e se poi dovete fare degli acquisti vi raccomando inserendo il mio codice sconto domi tutti in grande con la y finale che avrete sul totale della merce ulteriore a parte i prezzi bassissimi ulteriori 10 per cento di sconto ritorniamo di nuovo al nuovo allenatore del napoli rudy garcia e cosa c'è da dire da rudy garcia poco e niente sinceramente poco e niente allora come vi dicevo ex centrocampista da calciatore ha allenato la roma nel 2013 fino al 2016 senza vincere niente ovviamente c'è da dire il suo palmares il suo palmares dice che nel mi sembra nel 2010 2011 si 2010 2011 ha vinto il campionato francese con lille più a noi c'è la coppa italiana ha vinto la coppa di francia questo è il suo poi ha vinto anche come miglior allenatore sempre in quell'anno la diciamo c'è poco da non faccio salti di gioia non mi dispiace per carità perché un grandissimo allenatore ovviamente non stiamo a giudicarlo perché non ci dimentichiamo che spalletti il nostro grandissimo mister che mandano un bacio che voglio bene e rimarrà sempre nei nostri cuori mister spalletti quello che ci ha fatto vincere un scudetto mamma lo ringrazierò eternamente mister spalletti se ne va mister mi dispiace però ha fatto la scelta giusta ha fatto quindi ritornando a poi dopo ci aggaggiamo un po a mister spalletti diciamo che mister spalletti nemmeno lui aveva vinto mai un campionato l'aveva vinto sì un campionato l'ha vinto in russia però se permette rispetto al campionato francese un po più diciamo più quotato fa un campionato francese quindi sapete alla fine spalletti ha vinto campionato francese russo e rudy garcia ha vinto campionato francese in italia non ha vinto assolutamente niente bisogna adesso vedere l'approccio con i calciatori deve adesso cercare di continuare questa ruota fantastica che si era creata con il mister luciano spalletti spero che faccia bene perché adesso bisogna dimostrare qualcosina in più visto è considerato che vai a sostituire un allenatore che ha portato dopo 33 anni lo scudetto a napoli e ogni volta che parla sta sta parola scudetto ogni volta che c'è sempre un senso di gratitudine verso il mister spalletti un uomo un grande uomo c'ha le sue filosofie però chissà probabile che viene corsia e vincerà qualcosa con noi ovviamente non lo stanno prendendo diciamo ma ogni anno l'essimo vinto scudetto e ve lo riprenderò sempre a vita un anno potete può vincere pure 50 scudetto consecutive a feste è sempre a stessa non cambia perché lui è quello modo di passione quello modo quel modo di quel modo di quel modo di quel modo di festeggiare quindi quindi potessero riuscire quando una presa no è così io niente gli auguro buona fortuna al mister rudy garcia benvenuto a napoli noi siamo una piazza molto esigente come ben sapete cercate veramente di ma io sono convinto che lei farà belle cose sono convinto che lei farà belle cose sono proprio convinto questa cosa accadde io con mister luciano spalletti all'inizio quando venne quando venne scusate guardando il suo curriculum non ha mai vinto uno scudetto quindi è un allenatore da secondo terzo posto infatti l'inter lo mandò dopo dieci anni da quando vinse col triplette in champions grazie a spalletti che andò l'inter non ce lo dimentichiamo questo andò l'inter in champions league dopo dieci anni mi sembra quello che io dicevo che non ha mai vinto è un allenatore da secondo terzo posto sapete comunque e dissi anche speriamo speriamo che rinnovi questo curriculum lo dissi stanno i video andatele a guardare ha rinnovato ha rinnovato ci ha portato quella bella gioia dopo 33 anni mamma mia e come se non fanno gli luciano spalletti dove corrono questo come? è impossibile ma perciò ha fatto benissimo ha fatto benissimo perché sapeva sapeva benissimo che l'anno prossimo non poteva raggiungere gli stessi risultati perché quest'anno raga scusate l'emozione però ho criticato delle volte io faccio sempre critiche costruttive perché devo criticare e basta e niente troppo bella troppo bella quella sensazione che ci ha fatto provare spero spero che non è assolutamente non è assolutamente non fesso ve l'ho detto il palmarès come vogliamo chiamare comunque non dice un gran che e in quell'anno la proprio giustamente in quell'anno la nel 2010 2011 era ancora più scadente poi mano a mano può essere il PSG queste cose però sono molto fido di questo l'unica cosa che posso dire raga speriamo bene che la madonna ce la mandi buona e ci faccia fare un bellissimo campionato e il presidente non smantelli diciamo la squadra io penso di no si stanno sentendo tante voci pure di Kim Kim è andato a fare il servizio di lei che va là in Corea perché l'hanno chiamato e se non si presenta ora hanno come disertore quindi dovrà rientrare e automaticamente resterà nel Napoli ma si parla che vogliono raggiungere la clausola di 50 milioni di euro per come ce l'ha ma io ora vi dico un'altra cosa guardate quello che penso io perché il presidente questo non spara 3 se non peggia 33 ma cosa succede? quello non se ne andrà il presidente mi chiamava il ministro mi chiamava mi chiamava mi chiamava i soldi tutto così state qua firmami un altro contratto e quando fa firmare un altro contratto c'è un'altra clausola perché lui mi dice cazzo ci stiamo andando a 250 è poco perché non mi aspettavo che Kim era così non mi aspettavo che Kim era così e quindi ma hai capito sotto il banco che cosa hai capito e ho parlo poi e fa firmare un contratto un'altra clausola sicuramente il doppio e gli dice ma venite a me venite ma ho accattato lì ma se sono voi sono pochi Kim rimane Kim rimane raga quest'anno quest'anno se ne andrà secondo me Demme forse ovviamente beh alla panchina come titolari secondo me Mario Rui pure lascerà di Lorenzo non penso il nostro capitano Aradè non lo so se lo botca se lo farà un altro anno non lo so Anguissa ovviamente mi sembra che ha rinnovato se non erro Don Belè ha davvero ancora fisicità cioè forma quello quello là non va non va lasciato e quindi questo è il mio pensiero l'ultima cosa che voglio dire ancora una volta benvenuto mister mi raccomando non è nulla quella maglia non la difiamo ma la l'amiamo che è ben diversa un bacione buon lavoro e forza Napoli sempre perché tutto riesce calcisticamente parlando è un'unizia sicurosa ecco i punti che fa ciao agliù e forza Napoli I i i Grazie a tutti.